Le navi della legalità Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono sbarcate in mattinata al porto di Palermo proveniente rispettivamente da Civita Vecchia e Napoli. Una grande folla di giovani palermitani ha accolto i circa 3.000 tra studenti e professori accompagnatori. Abbiamo vinto la sfida del meteo, siamo qui insieme a voi. Il presidente del Senato Pietro Grasso ha salutato così i ragazzi siciliani che hanno accolto con uno sventolio di bandiere tricolore e con le note dell'inno di Mameli i coetanei arrivati da tutta Italia nel capoluogo siciliano per il ventunesimo anniversario delle stragi di Capace di Via D'Amelio. Sul palco, dopo di lui, ha preso la parola anche Don Luigi Ciotti, imbarcato sulla nave proveniente da Napoli, per esortare tutti a tenere viva la memoria dei due magistrati e di tutte le vittime della mafia. Dopo la cerimonia di benvenuto, gli studenti si sono divisi. Mille di loro si sono spostati nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per assistere al momento istituzionale della manifestazione. Tra i presenti anche i ministri della giustizia, Anna Maria Cancellieri e delle politiche agricole, Nunzia De Girolamo. Ritengo inappropriato sostenere che proposte legislative di contrasto alla mafia, alla corruzione, al voto di scambio, possano essere considerate divisive. L'unica divisione possibile nel contrasto alla corruzione è quella tra gli onesti e i corrotti, ha detto il presidente del Senato Grasso. Lo Stato, ha aggiunto, deve essere e apparire forte, serio e credibile, rigoroso con coloro che lo contrastano, affidabile con i cittadini onesti. La mafia non si vince solo con la repressione, che deve essere forte e costante, ma anche con il cambiamento della società, che deve essere improntata ai valori per chi tanti servitori dello Stato hanno perso la vita, giustizia, legalità e libertà. Lo ha detto Maria Falcone, parlando dell'aula bunker del carcere Uccardone di Palermo. Nel corso del suo breve e commosso intervento, la sorella del giudice antimafia ha ricordato la vedova del giudice Paolo Borsellino, Agnese, morta recentemente. Siamo qui, ha aggiunto, per ricordare due date tremende per la storia del nostro Paese, il 23 maggio e il 19 luglio. In quelle stragi persero la vita 11 servitori dello Stato. La fondazione ha cercato di mantenere viva la memoria, andando nelle scuole e parlando ai giovani, consegnando loro una memoria che così non andrà persa. Anche a Partinico, oggi, è stata depositata una corona dall'oro nella lapide che si trova a Villa Falcone per non dimenticare. Dopo la morte del giudice Falcone, qual è il modello di vita da seguire in un mondo dove vi è carenza di valori? I modelli da seguire sono tutti coloro che incarnano la conversione evangelica. L'Episcopato italiano, ma anche il Santo Padre, nella visita di Limena dei Vescovi siciliani, ha parlato di conversione e di evangelizzazione. Se l'uomo non si converte, se l'uomo non ha dentro una forte valenza di valori, allora l'uomo ricorrerà alla violenza, alla delinquenza, al racket, al pizzo e a tutte queste cose. Io auguro alla nostra città di liberarsi da tutte le cose che lo opprimono. Certamente la mancanza di lavoro e la disoccupazione crea anche queste situazioni incresciose, ma bisogna offrire ai giovani la possibilità di lavorare e non solo di emigrare al nord e fuori. Quindi qual è il suo messaggio a questa nuova gioventù che si affaccia a un mondo privo di valori? Non credete alle facili illusioni, non lasciatevi illudere né lasciatevi prendere dalle promesse anche in questo periodo di elezione, ma cercate appunto di costruire la vostra vita affidandovi all'intelligenza dell'impresa, un'impresa che coinvolga l'associazionismo, il gruppo, un'impresa che coinvolga il rinnovamento anche dell'agricoltura nel nostro territorio. Oggi ricorre il ventunesimo anniversario della strage di Capaci, qual è l'eredità che lascia il giudice Falcone? Il giudice Falcone come Borsellino, come tanti altri che hanno perso la vita per lottare la mafia, il grosso risultato è quello di aver smosso le coscienze della gente, perché dalla strage di Falcone e Borsellino tante cose sono cambiate, ma tanto ancora deve essere fatto da parte della società civile, da parte delle istituzioni. Però una cosa la posso dire, finalmente io parlo del contesto partinicese, si è riuscita a creare un'associazione anti-racket, l'amministrazione ha dato la disponibilità in un bene confiscato alla mafia, si è iniziato a un percorso di coinvolgimento serio, ci siamo riusciti in questo, gli imprenditori iniziano a denunciare, siamo sulla buona strada, bisogna credere all'onestà e alla legalità di questa amministrazione e delle amministrazioni che si sussegueranno, che porteranno avanti questa logica che noi abbiamo portato avanti, quella della denuncia per smuovere le coscienze della gente. Oggi era importante ricordare Falcone venendo qua a deporre una corona da loro. Quindi qualcosa è cambiato dopo la morte di questi giudici? Sì, molto è cambiato ma tanto bisogna ancora fare, siamo sulla buona strada, ci vuole tanta forza di volontà, abnegazione e credere nella legalità e nell'onestà che sono gli elementi essenziali per poter cambiare le sorti della nostra città. Qual è il suo messaggio ai giovani considerato che stiamo vivendo una crisi di valori? Ma è un messaggio che lancio ai giovani è di avere fiducia, di credere al cambiamento e di ricordare Falcone e Borsellino ma tanti altri che sono stati l'emblema della legalità e del cambiamento della nostra terra perché solo così la mafia non metterà i tentacoli nell'economia della nostra terra che è stato quello che sostanzialmente ha minato lo sviluppo della Sicilia. Oggi una corona dall'oro per non dimenticare il giudice ucciso dalla mafia? Sì, è un dovere da parte dell'istituzione ricordare queste giornate, in particolare il giudice Falcone per quello che ha fatto. Ripeto, è un dovere perché dobbiamo essere intanto l'istituzione, essere promotori di questi incontri, di questi momenti e cercare di coinvolgere quanto più possibile la gente perché sono convinto che è un momento di cambiamento e incomincia a vedersi e il popolo, tutto il popolo incomincia a capire che le cose debbano cambiare per cui questi impegni e questi incontri che vengono promossi a questa commemorazione debbano essere, ripeto, un dovere da parte dell'amministrazione ma essere portati avanti con il cuore e con volontà altrimenti il messaggio che deve passare non è quello giusto. L'osservatorio per lo sviluppo e la legalità è sempre presente e non può che esserlo in queste occasioni. Io personalmente preferisco più che la semplice commemorazione che è un atto dovuto una manifestazione come quella di ieri che si è svolta con tutte le scuole perché il nostro compito è quello di fare passare il messaggio che ci hanno lasciato questi grandi uomini ai bambini, trasmettere loro quello che è stato, quelle che sono state le loro idee, quelle che hanno fatto e non far perdere il ricordo e la memoria del passato. Dal tondo anche i manifesti che si appendevano a loro e che continuano ad appendersi anche oggi e che le loro idee cammineranno con le nostre gambe ed è questo il nostro compito che dobbiamo trasmettere ai bambini e alle nuove generazioni. Ma secondo lei qualcosa si è smosso? Le coscienze delle persone si sono smosse? Senza dubbio, senza dubbio. Io dicevo l'altro giorno eravamo a Borgetto a raccogliere le firme con l'associazione anti-sur anti-racket. 5-10 anni fa una cosa del genere era impensabile e quindi significa che molto si è fatto. Giustamente c'è molto da fare però se si riesce a trovare una sinergia tra le varie forze politiche, amministrative le associazioni e soprattutto le scuole, le scuole di primo grado la strada è quella giusta, è già stata tracciata e la speranza è sicuramente di avere un mondo migliore di quello che c'è stato fino a oggi. Sono trascorsi 21 anni dalla strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Amorvillo e gli uomini della scorta e le indagini su quella carneficina sono ancora aperte. A condurle è la procura di Caltanissetta che il mese scorso ha notificato altre otto ordinanze di custodia cautelare firmate dal GIP del Tribunale Nisseno per quei fatti. Le nuove ipotesi investigative descrivono un quadro generale dell'epoca nel quale abbia deciso di muoversi l'ideatore della strage Totò Riina. Secondo i giudici della procura di Caltanissetta con l'avvallo del GIP Nisseno Francesco Lauricella la strategia di Totò Riina sarebbe ispirata a quella utilizzata dai narcotrafficanti colombiani. Nell'aprile del 1990 infatti a Medellin i narcos si resero autori di una strage simile a quella di Capaci che colpì il giudice antimafia e la sua scorta. I colombiani infatti imbottirono di Tritolo un'autobomba che fecero esplodere al passaggio del corteo di auto dei poliziotti antinarcotici. Durante lo stesso anno in Colombia esplosero 18 bombe che provocarono 93 morti e 46 feriti. Avvenimenti internazionali che secondo i giudici ispirarono i mafiosi di Cosa Nostra. In un primo momento la mafia avrebbe pensato di sparare a Falcone mentre era a Roma. Un piano troppo rischioso e abbandonato per fare spazio all'ipotesi Tritolo già utilizzata in altre occasioni. Nell'83 e nell'85 la mafia organizzò gli attentati ai giudici Rocco Chnici e Carlo Palermo proprio piazzando delle autobombe imbottite di Tritolo. Una tecnica da guerra che secondo i giudici Cosa Nostra scelse per la sua efficienza e utilizzò per dichiarare guerra allo Stato e costringerlo a trattare. Il curvone della morte ha ammietuto un'altra vittima. A distanza di poco più di un anno dalla morte di un giovane, ieri un altro uomo ha perso la vita sulla strada statale 187 all'altezza di Dagala Secca a Castellammare del Goffo nella frazione di Balata di Baida, proprio dove c'è una grande e pericolosissima curva. A morire un 71enne Antonino Valentia di Paceco a causa di uno scontro frontale con un'altra auto. Pare che l'anziano abbia fatto una manovra azzardata a causa di un mezzo pesante. La dinamica al momento è al vaglio del comando dei vigili urbani intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. Secondo quanto è stato appurato, la vittima viaggiava a bordo di una Fiat Punto che è stata affiancata da un camion. Da questo momento in poi si fa tutto più confuso. Per causa in corso, per l'appunto di accertamento, pare che l'anziano abbia sbandato finendo nella corsia opposta e andando a sbattere frontalmente con l'auto che sopraggiungeva in direzione opposta una Toyota Yaris. Un'ambulanza è giunta a pochi minuti sul posto, ma il cuore del 71enne aveva già cessato di battere. Questo tratto stradale si conferma molto pericoloso per la viabilità. Appena sette mesi fa in questo stesso curvone si è verificato un altro incidente stradale mortale. Nell'ottobre del 2012 a perdere la vita fu il castellammarese Paolo Cassarà mentre altre due donne alcamesi rimasero ferite. E sempre sulla strada statale 187 nel novembre del 2011, questa volta però nel tratto compreso tra Busetto Palizzola e Castellammare del Goffo, altri due uomini romeni sono morti in un altro sinistro. L'auto sulla quale viaggiavano le due vittime si era scontrata con un'altra vettura a bordo della quale erano presenti due persone rimaste illese. Terzo tentativo di furto sventato in pochi giorni dalle guardie giurate dell'Istituto di Vigilanza Sicil Security diretta dal titolare Salvatore Cascio di Cinisi. L'ultimo episodio risale alla notte scorsa. L'allarme è scattato dieci minuti prima dell'una nella videoteca di Via Roma Carini presa di mira in altre occasioni. Il furto è andato in fumo grazie al sofisticato sistema anti-intrusione continuamente collegato con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza. I gnoti hanno tentato di aprire il distributore di alimenti e bevande collocato all'interno del negozio, ma il segnale d'allarme giunto in centrale operativa ha messo in fuga i malfattori che non hanno potuto portare via nulla. Sul posto dopo pochi minuti sono arrivati i vigilantes che hanno trovato due cassette in legno posate accanto al distributore automatico, probabilmente per metterci dentro la refurtiva. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Carini. La scorsa settimana la polizia privata ha bloccato e fatto arrestare un giovane mentre tentava di rubare materiale ferroso da un'azienda dismessa nell'area industriale. Per l'omicidio del costruttore d'Isola delle Femmine, Vincenzo Enea, avvenuto nel giugno del 1982, c'è un colpevole. Il GUP, Pier Giorgio Morosini, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero Francesco del Bene, ha condannato a 30 anni il boss ergastolano Francesco Bruno. La sentenza è stata pronunciata ieri pomeriggio a conclusione del rito abbreviato che si è celebrato in corte d'assise. Nella vicenda Enea, riaperta grazie alle testimonianze dei figli della vittima e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i familiari del costruttore ucciso sono parte civile, con l'assistenza dell'avvocato Giuseppe Marchi. Nel corso della requisitoria del Bene ha collegato l'omicidio Enea con un altro fatto di sangue, l'omicidio di Benedetto D'Agostino, caduto sotto i colpi dei killer pochi giorni prima di Enea. Diversamente da quel che accadde per D'Agostino, in cui non ci sono testimoni che possano confermare le accuse dei pentiti, per il secondo delitto c'è la testimonianza del figlio Pietro Enea, oggi residente negli Stati Uniti, rimasto per anni in silenzio per paura e che ha deposto un paio di anni fa. Lui ha fornito però elementi soltanto contro Bruno, la cui auto, più o meno nell'ora del delitto, era posteggiata nei pressi del cantiere in cui stava lavorando Vincenzo Enea, in via Palermo, a Isola delle Femmine. I familiari di Enea non hanno mai smesso di cercare giustizia, per questo, quando hanno parlato i pentiti, hanno aggiunto il loro contributo alle attività dei carabinieri coordinati dal PM del Bene, pagando per un prezzo. Da quando è cominciata questa storia, molte persone qui a Isola non mi salutano più. È una cosa che proprio non mi va giù, ma io vado avanti, assieme ai miei fratelli, aveva detto uno dei figli della vittima, Riccardo Enea, il mese scorso. Il giudice ha concesso anche una provvisionale di 100.000 euro, ma i familiari in sede civile hanno chiesto 6 milioni di euro e il riconoscimento del padre quale vittima di mafia. Potrebbero finire a 300 chilometri di distanza i rifiuti raccolti nei comuni del lato Palermo 1, non appena l'impianto di Siculiana chiuderà i battenti per lavori di ampliamento. Le discariche che hanno dato disponibilità al commissario liquidatore, l'avvocato Antonio Geraci, si trovano infatti nel Catanese. Una soluzione poco praticabile, dice Geraci, soprattutto per l'eccessiva distanza. Attendo in queste ore la convocazione al Dipartimento regionale per affrontare la questione. Intanto, come se non bastasse, arrivano col contagocci i versamenti delle tesorerie dei comuni soci, da Isola delle Femmine a Balestrate, e pesano come macigni le somme dovute dai sindaci sia alla società d'ambito sia alla Regione per il periodo dell'emergenza che ha permesso un intervento sostitutivo in favore di ogni singolo paese. Adesso però l'assessorato regionale presenta il conto ed è molto salato. Carini, ad esempio, dovrà versare circa 1,9 milioni di euro. Partinico, un milione e mezzo. Capaci, mezzo milione circa. Ed ancora, 630 mila euro. Isola delle Femmine, 423 mila euro. Cinisi, 117 mila. Trappeto. Meno gravoso il fardello per Torretta e Giardinello, rispettivamente 11 mila e 31 mila euro. Sono cifre pesanti, anche quelle relative alla situazione debitoria nei confronti della società d'ambito in liquidazione. 14,6 milioni li deve Carini, 11,6 milioni sono a carico di Partinico, 3,8 milioni gravano su Capaci e 2 milioni su Borgetto. L'Assemblea dei Soci è convocata intanto per martedì prossimo e all'ordine del giorno c'è l'approvazione del bilancio 2012. Seguirà una sessione straordinaria durante la quale saranno ufficializzate le dimissioni di Antonio Geraci. La sentenza è definitiva. Salvino Caputo è stato condannato a un anno e cinque mesi per tentato abuso d'ufficio. L'ex sindaco di Monreale e attuale deputato regionale del PDL si era attivato per cercare di fare cancellare alcune multe. Tra queste, pure quelle elevate all'arcivescovo Salvatore Cassisa. Multa più salata, 1.300 euro per l'ex assessore Francesco Nocere, la moglie. 900 euro per l'allora presidente del Consiglio Comunale, Roberto Terzo. Nel mirino del procuratore aggiunto Leonardo Agueci e del sostituto Sergio De Montis, finì una determinazione sindacale ad hoc che disponeva allo sgravio delle somme. Una determinazione bollata come illegittima dall'accusa. Di una condanna per un reato impossibile hanno sempre parlato i legali di Caputo. Le multe in effetti non furono mai cancellate. Le delibere di Caputo restarono lettera morta, fino a quando il suo successore, Totigullo, non se le ritrovò davanti e decise di spedirle alla Corte dei Conti. È da qui alla Procura della Repubblica che fece scattare l'inchiesta. In primo grado Caputo era stato condannato a due anni in appello, però cadde l'accusa di falso e arrivò lo sconto di pena. Caputo ha ottenuto la sospensione della pena. Per il quarto anno consecutivo e considerato il successo delle precedenti manifestazioni, il settore promozione economica e servizi ambientali del Comune di Alcamo, in collaborazione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, organizza per il 25 maggio, a partire dalle ore 9 alle ore 13 in Piazza Ciullo, la quarta giornata dell'adozione del cane. Obiettivo è quello di offrire ai cittadini la possibilità di adottarli gratuitamente. Attraverso un'adozione potrai contribuire non solo a rendere felice un cane, ma farai molto di più, poiché un nuovo amico avrà la possibilità di uscire dalla morsa del randaggismo, di essere curato e di avere anche lui una seconda chance nella vita. All'iniziativa del Comune sono state invitate a partecipare le scuole elementari e medie di Alcamo. In Piazza Ciullo sarà allestito uno stand dove chiedere informazioni per le adozioni. Ed il Sindaco, Sebastiano Bonventre, sottolinea l'importanza della manifestazione. Asserisce anche la lotta al randaggismo rappresenta un segnale di crescita di una collettività. E l'assessore all'ambiente Massimo Fundarò, promotore della manifestazione, invita tutti a partecipare alla giornata del 25 maggio. Adottare un cane è un gesto di grande solidarietà e civiltà. E ricorda Fundarò, il servizio anti-randaggismo è funzionante 24 ore su 24 anche nei giorni festivi. Domenica 9 giugno e lunedì 10 si voterà per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali in quattro capoluoghi siciliani, in 35 comuni superiori e 103 comuni inferiori. Ecco la modalità di espressione del voto per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. Ogni scheda elettorale reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco sono riportati i contrassegni delle liste ai quali il candidato è collegato. Espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, comma 3 articolo 2, legge regionale del 97, numero 35. Si può votare un candidato alla carica di sindaco, una lista a lui collegata ed un candidato consigliere, tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome prestampato del candidato sindaco, un segno sul contrassegno della lista allo stesso collegata e scrivendo il cognome del candidato consigliere. In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista allo stesso collegata e per i candidati al Consiglio. Le stesse preferenze dell'esempio appena descritto possono essere espresse anche nel seguente modo. Si può votare un candidato alla carica di sindaco e una lista a lui collegata. In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco e per la lista allo stesso collegata. Si può votare un candidato alla carica di sindaco, una lista a lui non collegata ed un candidato consigliere, tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome prestampato del candidato sindaco, un segno sul contrassegno della lista allo stesso non collegata e scrivendo il cognome del candidato consigliere. In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista non collegata al candidato sindaco e per il candidato consigliere. Si può votare un candidato alla carica di sindaco e una lista a lui non collegata, tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome prestampato del candidato sindaco, un segno sul contrassegno della lista. E in questo caso il voto è valido per il candidato sindaco e per la lista. Si può esprimere un solo voto di preferenza per il consiglio, scrivendo nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta il cognome del candidato consigliere. In caso di due candidati consiglieri con lo stesso cognome, occorre aggiungere al cognome anche il nome. In questo caso la preferenza espressa non si estende al candidato alla carica di sindaco, ma è valida solo per la lista e il candidato consigliere. Il solo segno sul contrassegno della lista non estende il voto al candidato sindaco collegato. In questo caso il voto è valido solo per la lista contrassegnata senza che si estenda al candidato sindaco. Si può votare un candidato alla carica di sindaco senza esprimere nessun'altra preferenza. In questo caso il voto è valido solo per il candidato sindaco senza che il voto si estenda alla lista ad esso collegato. Espressione del voto nei comuni con popolazione legale tra 10.000 e 15.000 abitanti ed espressione del voto nei comuni con popolazione legale superiore ai 15.000 abitanti. L'espressione del voto in queste due fasce di comuni sono equivalenti. Gli esempi riprodotti in precedenza possono essere riportati per queste fasce di comuni, poiché l'unica differenza è che il candidato sindaco può essere collegato con una o più liste. Si ripropone un solo esempio solo per visualizzare un modello di schema con il candidato sindaco collegato a più liste. Doppia preferenza di genere. Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed una lista a lui non collegata tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome prestampato del candidato sindaco, un segno sul contrassegno della lista e nelle corrispondenti righe scrivere il cognome dei candidati al Consiglio. I candidati al Consiglio votati devono necessariamente appartenere uno al genere femminile ed uno al genere maschile. In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco per la lista non collegata al candidato sindaco e per i candidati al Consiglio. Si può votare un candidato alla carica di sindaco e una lista a lui non collegata tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome prestampato del candidato sindaco, un segno sul contrassegno della lista e nelle corrispondenti righe scrivere il cognome dei candidati al Consiglio. I candidati al Consiglio votati devono necessariamente appartenere uno al genere femminile ed uno al genere maschile. In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista da stesso collegata e per i candidati al Consiglio. Caso in cui le preferenze per i candidati al Consiglio appartengono allo stesso genere. In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista allo stesso collegata e per il candidato votato nel rigo contraddistinto nella scheda elettorale dal numero 1 poiché l'articolo 1 legge regionale numero 8 del 10 aprile 2013 tra l'altro dispone appena la nullità della seconda preferenza. Caso in cui le preferenze per i candidati al Consiglio sono più di due. In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista ed è nullo per i candidati votati poiché il comma 3 dell'articolo 1 legge regionale numero 8 del 10 aprile 2013 tra l'altro dispone qualora vengono espressi più di due voti di preferenza per i candidati di una medesima lista si intende votata la sola lista. Casi particolari di espressione del voto. Tizio è candidato a consigliere della lista contrassegnata dall'elettore. In questo caso il voto è valido per la lista e per il candidato a consigliere. Il voto è nullo per il candidato alla carica di sindaco poiché l'elettore non si è espresso in modo univoco. In questo caso il voto della lista è valido, non vi è nessuna espressione di voto per il candidato sindaco, è nullo il voto di preferenza. In questo caso non vi è nessuna espressione di voto per il candidato sindaco né per la lista ed è nullo il voto di preferenza, non essendo attribuibile a nessun candidato consigliere. In questo caso non vi è espressione di voto per il candidato sindaco né espressione di preferenza per il candidato al Consiglio e altresì nullo il voto di lista considerato che manca una palese ed univoca volontà dell'elettore. Quindi la scheda è nulla. In questo caso non vi espressione di voto per il candidato sindaco. L'espressione di voto per il candidato al Consiglio Tizio è valida se egli appartiene alla lista identificata con il contrassegno posto a fianco. È nullo se appartiene ad una lista diversa. Considerato che non ci sarebbe univocità nella manifestazione di volontà e altresì nullo il voto di lista dell'altra lista contrassegnata.